La falconeria è un'arte antichissima che è iniziata circa 3.000 anni fa in Cina. L'ha importata in Europa Marco Polo. Poi i nobili l'hanno presa come sport di casta praticamente. Attualmente la falconeria si pratica con diverse specie di rapaci. In questo caso che vedete il bufo reale in Italia è proibito, non si può usare. Il cappuccio a cosa serve? Il cappuccio serve per l'addestramento. È stato inventato da Federico II e quando hanno inventato il cappuccio hanno inventato la falconeria moderna. Perché nell'antichità avendo a disposizione un cappuccio come questo gli cigliavano gli occhi. Vuol dire che gli cucivano le palpebre per tenerli al buio. Anche la caccia con l'aquila rientra nella falconeria. È un'aquila che anche lei potrebbe prendere anche qualcosa. Se uno va a caccia con l'aquila americana è che a me non mi interessa il discorso di andarci a caccia con questo tipo di aquila. E allora io la do proprio per fare gli spettacoli. Di che genere? E spettacoli medievali, spettacoli così nei centri storici, quelle cose lì. Insomma spettacoli anche in un parco. Quanti sono i falconieri oggi in Italia? In Italia saranno circa 300 falconieri praticanti. In Emilia Romagna siamo una ventina, siamo molto pochi. Potrebbero essere forse di più perché sta avendo una certa evoluzione la falconeria. Il problema, la limitazione grande è la licenza di caccia molto costosa che non è differenziata dal fucile. Allora chi vuole soltanto, ci sono dei ragazzi che sarebbero interessati alla falconeria, chi vuole fare solo falconeria deve per forza avere la licenza di caccia col fucile.